Noi giovani abbiamo un ruolo importantissimo nella società ed è quello di portare avanti dei valori, che sono i valori della tolleranza, della democrazia e solo ricordando il passato, quello che è successo e gli errori più grandi dell'umanità possiamo portarli avanti e raggiungere una società migliore. La guerra di 70 anni fa sembra lontana ma non bisogna voltarsi dall'altra parte davanti alle barbarie di oggi, come le esecuzioni a favore di telecamera dell'ISIS e la strage di Parigi. E' questo l'impegno che ha messo insieme i pensionati dello SPICGL e i giovani della rete degli studenti. Sabato 28 febbraio, come succede da quattro anni, si sono ritrovati a Sant'Anna di Stazzema, luogo della strage nazista del 12 agosto 1944. Un paese intero fu sterminato, bambini, donne e anziani, 560 le vittime in ermi. Io leggevo stamani mattina una cosa interessante di Primo Levi che ha detto che se comprendere è impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate. Credo che mai come in questo momento queste parole sono attuali. Penso a quello che è successo a Parigi, penso a quello che ancora ci sta preoccupando che viene avanti e credo che tutti dobbiamo essere molto attenti a quello che ci accade intorno e soprattutto studiare, capire, leggere, informarsi perché l'esperienza e la memoria ci aiutino a non rincorrere nuovamente in quello che tanti anni fa è successo. Lo SPI nazionale da anni fornisce il suo contributo economico al Comune di Stazzema perché proseguono le attività del Parco Nazionale della Pace che ha il suo cuore proprio nel Museo Storico della Resistenza, dove si è svolta l'iniziativa dei pensionati della CGL intitolata La Memoria Vive. Io credo che devono essere gli anziani di oggi che sono stati giovani del secondo novecento quelli che si devono assumere la responsabilità di tramandare la memoria ai giovani di oggi perché i giovani hanno bisogno di conoscere bene la storia, conoscerla per far sì che loro si mettono fra i loro obiettivi dei ragazzi di oggi quello di mantenere la pace e di far sì che la violenza, quella che abbiamo visto, non ritorni. Una sala gremita, tante voci, gli studenti, i sindacalisti e anche la testimonianza del ricopieri. 81 anni oggi, ieri undicenne, quando sfuggì allo sterminio della sua famiglia nascosto in uno sgabuzzino. Intanto il comune di Stazema vuole portare davanti a un giudice tedesco, Gerhard Sommer, l'ultimo dei responsabili dell'Eccidio che può sostenere un processo. Noi ci stiamo impegnando, io rientro da Hamburgo 20 giorni fa per aver parlato col procuratore generale per fargli sentire la nostra necessità che anche la Germania, che è il motore dell'Europa, quell'Europa che serve per garantire la pace nel mondo, non solo in Europa, faccia un percorso come abbiamo fatto in Italia di verità e di giustizia. E io speravo che delle Sant'Anne non ce ne fosse più, purtroppo delle Sant'Anne ce ne è ancora. E questo è un impegno che ci dobbiamo assumere tutti, che delle Sant'Anne non ce ne fosse più. Grazie.